Buongiorno amici, benvenuti al nostro appuntamento con l'argilla e con il mio strumento preferito, il filo da taglio. Vediamo oggi dove ci portano le armature di gilla. Comunque c'è la segretta morbida. Da un po' che non ci vediamo eh! State bene? Bravi! Vi ho lasciato anche un tutorial per costruire un filo da taglio da soli eh! Questa è una argilla che quando cuoce, poi cuoce rossa. Bisogna cuocerla, bisogna aspettare che asciughi bene prima e poi metterla in un forno speciale per la ceramica. E così. Senti contenti che finita la scuola? Grazie. 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 Grazie.